Noi vorremmo far sentire a Caterpillar e a IEM proprio su questa faccenda della grossa balla, secondo Belpietro, che il Ministro Fornero avrebbe detto, che cosa ci ha detto ieri un giuslavorista bolognese, Umberto Romagnoli. L'unica estensione riguarda la tutela, l'estensione alle unità produttive minori, riguarda la tutela contro i licenziamenti discriminatori, ma c'era già, c'era già, c'era già in base ad una legge risalente al 1990, quindi sotto questo profilo non è cambiato assolutamente niente, viceversa l'articolazione della disciplina contro il licenziamento ha raggiunto un livello di complessità che può favorire sì un incremento occupazionale, ma per gli avvocati specializzati in materia di lavoro. Allora, Caterpillar a voi. Beh, eccoci, buongiorno direttore. Buongiorno direttore. Molto interessante l'intervista. Menomale che l'ha detto con chiarezza, perché noi dicevamo, l'articolo 18 non si applicava ma erano arrivate altre norme, per cui insomma... C'era già, c'era già. Beh, oggi direttore la polemica va avanti perché se da una parte questa riforma del lavoro desta alcune perplessità, le abbiamo citate ieri per esempio quelle sui licenziamenti che diventano effettivamente un po' più facili per le aziende e non si capisce bene quanto questo possa attrarre tutti questi investimenti dall'estero e non solo, oggi la polemica si sposta su un altro versante, ovvero gli statali. Il giornale titola Panico fra gli statali perché viene fuori nel pomeriggio e nella salata ieri che da tutta questa nuova versione dell'articolo 18 sono esclusi ovviamente i lavoratori del pubblico impiego perché loro hanno un tipo di legislazione diversa. Se volete vedere il giornale è qui sulla mia scrivania, ecco così per far vedere quanto precisa sia la citazione di Solibello il quale si è vestito come Ardemagni, sembrate la guardia svizzera intorno alla papessa. Le piacciono i miei valletti? Ha visto? Mi sembravano due guardie svizzere intorno a una papessa. Esatto, gli ho fatto lasciare via l'elmo perché mi sembrava un po' kiccio, però adesso proveremo un po' di costumi diversi. Assolutamente l'esclusiva del colore oggi benedetta per noi. Poi abbiamo sentito il segretario confederale, Loi della UIL, che ci ha precisato che i lavoratori statali già non erano sotto quell'ombrello, quindi il fatto è che sotto stavano un'altra normativa, quindi di fatto dovrebbe essere una polemica già destituita di fondamento in quanto la debirecazione non avviene oggi, ma è progressa. Però ieri pomeriggio non lo avevano capito neanche al Ministero che la modifica dell'articolo 18 non riguardasse gli statali, infatti io ne ero sicuro che non avrebbe riguardato gli statali perché questo governo è molto coerente, ma proprio suicida no, nel senso che se avesse toccato gli statali avrebbe ricostruito l'unità sindacale con Cislewis che sarebbero andati in piazza con la CGL, tanto per capirci. Allora poi la Ministra Fornero è intervenuta. Direttore, per quanto, quello che dice ovviamente è corretto, però è stato interessante parlare con l'OI della Will, perché siamo entrati nel merito e andiamo un po' dietro, per cui licenziamenti disciplinari dopo la legge Brunetta gli statali si possono fare, però c'è questo problema economico che effettivamente lo Stato per tagliare le spese si basa sui pensionamenti e non assume nuovo personale, per cui abbiamo provato a sottoporre a l'OI questo problema che comunque sta cominciando a diventare grosso in tanti settori, quello per esempio delle scuole, degli insegnanti. Io ho una fissazione per gli archivi, che è un settore specializzato in cui non si assume più, per cui gli abbiamo detto, l'OI ho capito che c'è questa normativa speciale e gli statali non si possono toccare, ma come andiamo a affrontare questi problemi strutturali? E lui ha ammesso che c'è un problema e così insomma ha detto di andare a toccare prima le consulenze, eccetera, eccetera. Diciamo che il direttore, la RAI è come gli archivi, non assume nulla, non si assume. E adesso poi che non si potranno più tenere le partite IVA false per più di sei mesi, sarà interessante vedere cosa succederà. Ma dubito, difficilmente, però si assiste a un invecchiamento della popolazione ovviamente della lavorativa. Beh certo, ma c'è il direttore, ci sono due punti, uno che è quello appunto dei giovani, ovviamente il pubblico non assume più, perché non può licenziare per tanti motivi, perché è in crisi, però di fatto non assume più. Dall'altra, l'altro punto forse più politico è come si fa a spiegare alla cittadinanza, alla popolazione, agli elettori che tutti questi sacrifici, gli ennesimi dopo la riforma delle pensioni che adesso devono affrontare valgono per tutti, ma non per il settore del pubblico. Come fanno i partiti a spiegarlo? Ecco, questo fa arrabbiare molti ascoltatori che già si sono arrabbiati perché tolgono dei diritti e delle tutele e adesso si arrabbiano ancora di più perché dicono però le tolgono a me e non le tolgono a lui, allora non dovrebbero toglierle né a me né a lui. Io dico che c'è un'altra questione che sollevo alla vostra professoralità, davanti alla vostra professoralità, ed è che c'è una legge di Rajoy che viene considerato il più liberista dei capi di governo europei, lo spagnolo Rajoy, che applica questa possibilità di licenziare tranquillamente a tutto il settore privato e non ai funzionari pubblici. Però quale sia il termine crisi economica è chiarito, è molto grande, cioè si dice quando gli utili diminuiscono per due esercizi consecutivi, quindi non significa che l'azienda sia in crisi, deve portare i conti in tribunale, ma c'è un dato economico finanziario, come voi possiamo dire, due diminuzioni degli utili consecutivi, quella è un'azienda che può procedere a licenziamenti economici. In realtà qui noi non sappiamo quale azienda possa procedere a licenziamenti economici, si può dare il caso di un'azienda che addirittura, e voi sapete benissimo che non sono tantissime le aziende che distribuiscono gli utili, e che sicuramente continua a dare questi bonus scandalosi, ma figurarsi vogliamo liberare la libertà di impresa, e che poi si libera di alcuni lavoratori perché certe funzioni nel suo progetto di vincente non c'entrano più. Naturalmente dice che in teoria dovrebbe sforzarsi di utilizzarli altrove, ma con una situazione in cui il giudice non può fare altro che stabilire l'indennizzo in caso di licenziamento economico, che cosa vi immaginate? Che ci siano un sacco di cause? Noi raccogliamo il suo punto che aveva anche espresso ieri, ci vogliono dei parametri oggettivi per battezzare l'impresa in crisi, allora noi lo chiederemo, nella prossima settimana sarà inevitabile tornare sull'argomento, cercheremo ovviamente interlocutori di tutte le... da Confindustria ai lavoratori, ai sindacati, ancora, lo so già, e porremo il suo problema, la chiameremo come l'opzione Mineo, quella, la mozione Mineo, quella di trovare dei parametri oggettivi perché... guarda, noi la sposiamo, è una campagna che noi sposiamo in toto. Ma certamente, ma Ardemagni però, direttore, ha detto una parola che oggi è caldissima, Confindustria, oggi si decide il successore della Marcegaglia e noi sappiamo già chi sarà, quindi se lei lo vuole già mettere nei titoli, non so se vuole avvisare la sua redazione... Allora ragazzi, sapete chi prende il posto di Emma Marcegaglia? Sentiamo. Beh, ci sarà una grossa rimonta di Bomba 6, ma alla fine la spunterà Squinzi, come è... Squinzi, Squinzi, nonostante la grande rimonta rispetto ai pronostici di Bomba 6. Quindi Bomba 6 arriva a un pelo dalla poltrona che fu della Marcegaglia, ma Squinzi, l'uomo moderato, l'uomo del dialogo, l'uomo che non ritiene, per esempio, che sull'articolo 18 si debbano fare le barricate, ecco lui andrà a sedere sul trono di Confindustria. Ma dopo che hanno fatto le barricate per te... Ma dico, aspetterate una settimana, arrivano a Bomba 6 e non bisogna fare le barricate. Sergio Marchiondo dovrà fare Avecca, perché lui si è... Ma tanto lui è suore! No, ma se avete tornato, lui era per Squinzi, sì, no, scusi, lui era per Bomba 6. Diciamo così, che Squinzi è l'uomo del dialogo. Ha detto se, se prendono Bomba 6 potrei ritornare in Confindustria, cioè voglio dire... Non ha detto così, mi piacerebbe, è un intellettuale organico, no, ha detto torno in Confindustria e si vede Bomba 6, vediamo. Scusate la facile battuta, senza Bomba 6 il ritorno di Marchionne frenerà? Certo, proprio con... Certo, certo, frena. Come la parte, andiamo... Come un freno Brembo, diciamo. Esatto. Ok, abbiamo la vignetta, direttore, e oggi la vignetta è un editoriale politico della trasmissione, eh, di Cinzia Poli, perché come tutta la satira, eh, come tutta la satira. La guardi e poi la commentiamo, se vuole. Come no. L'articolo 18 è sistemato, adesso basta con questo tabù dello stipendio. Sì, avevo già sentito, Confindustria dice, ma proprio è necessario dare gli stipendi. Scusi, ma perché guardi che gli investitori stranieri correrebbero in Italia se noi togliessimo questa cosa dello stipendio obbligatorio, no? Vecchio, 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 via questa cosa dello stipendio e subito gli investitori. Gnac, vede, suona già il telefono, sente che roba, sente che suona. Da Svizzera, da Svizzera, dal Brasile, suona. Pure i cinesi vengono, ecco, sì, sono d'accordo con Benedetta, anche i cinesi arrivano. Se si scopre che riduciamo allo stipendio. Dime how, dime how. Sono gli investitori, direttore, stanno già chiamando. E' fatto. Ma domani. Abbiamo una trattativa. Va bene. Suona, arrivederci. Senti, hai visto la foto, no, scusa, l'ultima, Benedetta, hai visto la foto di Elsa Fornero 65 sulla stampa? Sì, no, l'ho vista. Era la prima della classe, eh? Era la prima della classe. Ma avevamo dubbi, direttore, eh? Cioè, avevamo dubbi. Così, eh? Arrivederci. Arrivederci. Suona. Suona. no